Se noi vogliamo comprendere le nostre autentiche individualità, dobbiamo familiarizzarci con i processi interiori della nostra mente. Se vogliamo funzionare bene, dobbiamo integrare le discordanti tendenze che sono insite nel nostro essere. L'isolamento di queste tendenze e la loro proiezione in figure distinte, come è illustrato da fratello e sorella e da i due fratelli, sono un modo in cui le fiabe ci aiutano a visualizzare e quindi ad afferrare meglio quanto avviene dentro di noi. Un altro modo in cui le fiabe ci mostrano la desiderabilità di questa integrazione è simboleggiato da un eroe che incontra queste varie tendenze una alla volta e le incorpore nella propria personalità finché si fondano tutte in lui, come è necessario che avvenga per il raggiungimento della piena indipendenza e umanità. I tre linguaggi dei fratelli Grimm è una fiaba di questo tipo. È una storia molto antica e sue versioni furono riscontrate in molti paesi europei e in alcuni dell'Asia. Nonostante la sua vetustà, questa fiaba, senza tempo, si legge come se fosse stata scritta per l'adolescente di oggi e si riferisce ai suoi conflitti con i genitori o all'incapacità dei genitori di comprendere le motivazioni dei figli adolescenti. La storia inizia così. C'era una volta in Svizzera un vecchio conte che aveva un figlio unico che però era stupido e non riusciva a imparare niente. Allora il padre disse, ascolta figlio mio, io non riesco a ficcarti niente nella testa per quanti sforzi faccia. Tu devi andartene da qui. Ti affiderò a un famoso maestro e lui cercherà di insegnarti qualcosa. Questo figlio studiò con questo maestro per un anno. Al suo ritorno il padre rimase tremendamente deluso quando sentì che tutto quello che il ragazzo aveva imparato era quello che i cani abbaiano. Mandato via per un altro anno di studio con un maestro diverso il figlio tornò dicendo di avere imparato quello che dicono gli uccelli. Su tutte le furie perché il suo figlio aveva di nuovo sprecato il tempo il padre lo minacciò con queste parole. Adesso ti mando da un terzo maestro ma se anche questa volta non imparerai niente io non sarò più tuo padre. Al termine di quest'anno il padre gli domandò cosa avesse imparato e il figlio rispose quello che le rane gracidano. Furibondo il padre cacciò di casa il figlio ordinando ai suoi servitori di portarlo nel bosco e di sopprimerlo ma i servi ebbero pietà del ragazzo e si limitarono a lasciarlo nel bosco. Molte tramefiabesche iniziano con l'allontanamento di bambini un evento che si determina in due forme principali. I bambini prepuberi che sono costretti ad andarsene di propria iniziativa fratello e sorella o vengono abbandonati in un luogo da cui non possono trovare la via del ritorno Hansel e Gretel. I ragazzi puberi o adolescenti che sono consegnati a servitori con l'ordine di ucciderli ma che vengono risparmiati perché i servitori provano compassione per loro e si limitano a fingere di averli soppressi. I tre linguaggi biancaneve. Nella prima forma viene data espressione alla paura del bambino di essere abbandonato. Nella seconda è espressa la sua ansia relativa a una ritorsione. La cacciata può essere percepita a livello inconscio o come il desiderio del bambino di liberarsi dal genitore o come la sua convinzione che il genitore voglia sbarazzarsi di lui. L'invio del bambino nel mondo o il suo abbandono nel bosco simboleggia sia il desiderio del genitore che il bambino diventi indipendente sia il desiderio o l'ansia del bambino riguardo all'indipendenza. In queste fiabe il bambino viene semplicemente abbandonato come succede ad Ensel e Gretel poiché l'angoscia dell'età prepubere è questa. Se non sono un bambino buono e obbediente do delle preoccupazioni ai miei genitori e loro non mi dedicheranno più tutte le loro attenzioni e potrebbero anche abbandonarmi. Il bambino pubere, più fiducioso di essere in grado di badare a se stesso, avverte meno l'ansia di abbandono e ha quindi più coraggio di affrontare il suo genitore. Nelle storie dove il figlio è consegnato a un servo per essere ucciso ha minacciato la supremazia o l'amor proprio del genitore, come fa Biancaneve con la sua avvenenza che supera quella della regina. Nella fiaba ai tre linguaggi l'autorità parentale del conte viene posta in questione dal fatto che il figlio, nel modo più evidente, non impara quello che secondo il padre dovrebbe imparare. Il genitore non sopprime il figlio ma in carica del misfatto un servitore e questi libera il ragazzo. Ciò suggerisce che ad un livello il conflitto non è con gli adulti in generale ma soltanto con i genitori. Gli altri adulti sono soccorrevoli nei limiti del loro coraggio senza mettersi direttamente in conflitto con l'autorità del genitore. A un altro livello ciò indica che nonostante l'ansia dell'adolescente circa il potere di vita e di morte che il genitore ha su di lui, il genitore non esercita tale potere. Infatti per quanto possa sentirsi oltraggiato non sfoga la propria collera direttamente sul figlio ma deve ricorrere a un intermediario come il servo. Ma il piano del genitore non viene portato ad effetto e ciò indica l'intrinseca impotenza della posizione del genitore quando tenta di abusare della sua autorità. Forse se un maggior numero dei nostri adolescenti fossero stati educati attraverso le fiabe essi rimarrebbero consapevoli a livello inconscio del fatto che il loro conflitto non è con il mondo adulto o con la società ma in realtà soltanto con i loro genitori. Inoltre per quanto il genitore possa sembrare minaccioso in un certo periodo è sempre il bambino che a lungo andare la vinta ed è il genitore che viene sconfitto come il finale di tutte queste fiabe rende ampiamente chiaro. Il figlio non solo sopravvive ai genitori ma anche li supera. Questa convinzione una volta che si sia impressa nell'inconscio permette all'adolescente di sentirsi sicuro nonostante tutte le difficoltà dell'età dello sviluppo che lo travagliano poiché ha fiducia nella sua futura vittoria. Naturalmente se un maggior numero di adulti fossero stati esposti da bambini ai messaggi delle fiabe e ne avessero approfittato avrebbero potuto conservare da adulti una vaga coscienza di quanto sia sciocco il genitore che crede di sapere quale indirizzo di studio dovrebbe interessare al suo figlio e che si sente minacciato se in questo l'adolescente va contro la sua volontà. Un dettaglio particolarmente ironico dei tre linguaggi è che il padre stesso manda il suo figlio fuori di casa a studiare e sceglie i suoi maestri soltanto per andare su tutte le furie quando apprende cosa gli hanno insegnato. Ciò mostra che il moderno genitore che manda il suo figlio all'università e poi si irrita per quanto ha imparato o per il modo in cui ne è stato trasformato è tutt'altro che un nuovo arrivo nella scena della storia. Il bambino desidera e insieme teme che i suoi genitori non siano disposti ad accettare i suoi sforzi per il conseguimento dell'indipendenza e che si vendichino. Lo desidera perché ciò dimostrerebbe che il genitore non può lasciarlo andare, cosa che dimostra l'importanza del bambino. Un'idea che non viene in mente al bambino prepubere ma che l'adolescente comprende. Se un bambino desidera vedere la fine dell'esercizio del potere parentale su di lui da parte del genitore, nel suo inconscio sente anche di avere distrutto il genitore dato che il bambino vuole sopprimere i poteri parentali o di essere sul punto di farlo. Nulla di più naturale per lui che pensare che il genitore voglia vendicarsi. Nella fiaba ai tre linguaggi un figlio va ripetutamente contro il volere di suo padre e così facendo riesce ad affermarsi e nello stesso tempo ha la meglio sui poteri paterni di suo padre per mezzo delle sue azioni. Questo li induce a temere che suo padre voglia distruggerlo. Così l'eroe dei tre linguaggi si avventura nel mondo. Durante le sue peregrinazioni arriva prima in un paese profondamente turbato perché il furioso abbaiare di cani feroci impedisce a tutti di dormire. Inoltre, peggio ancora, a certe ore un uomo deve essere dato in pasto a quei cani. Dato che l'eroe comprende il linguaggio canino, essi gli parlano, gli dicono perché sono così feroci e che cosa bisogna fare per ammanzirli. Una volta che questo è stato fatto, essi lasciano in pace gli abitanti del paese e l'eroe vi si trattiene per qualche tempo. Dopo qualche anno, l'eroe, diventato più grande, decide di recarsi a Roma. Durante il viaggio, delle rane gli svelano gracidando il suo futuro e questo gli dà modo di pensare. Giunto a Roma, trova che il papa è appena morto e i cardinali non sanno mettersi d'accordo su chi eleggere come nuovo pontefice. Non appena i cardinali decidono che dovrà essere un segno miracoloso a disegnare il futuro papa, due colombe bianche come la neve vanno a posarsi sulle spalle dell'eroe. Quando gli viene chiesto se è disposto a diventare papa, l'eroe non sa se ne è degno, ma le colombe gli consigliano di accettare. Così egli sale al soglio pontificio, come le rane avevano profetizzato. Al momento di dire la messa, non sa le parole, ma le colombe, sempre appollaiate sulle sue spalle, gli suggeriscono all'orecchio tutto quello che deve dire. Questa è la storia di un adolescente i cui bisogni non sono compresi da suo padre, convinto che suo figlio sia stupido. Il figlio non si svilupperà come il padre pensa che dovrebbe, ma si ostina a imparare invece quello che secondo lui ha un vero valore. Per raggiungere la sua completa autorealizzazione, il giovane deve prima arrivare a conoscersi interiormente, un processo che nessun padre può prescrivere, neppure se si rende conto del suo valore, come non fa il padre del giovane in questa storia. Il figlio di questa fiaba è un giovane alla ricerca di se stesso. I tre diversi maestri, dimoranti in luoghi remoti da cui si reca il figlio per essere ammaestrato sul mondo e su se stesso, sono aspetti finora ignoti del mondo e di se stesso, che egli ha bisogno di approfondire. E questo non pote farlo fin tanto che fu troppo legato alla sua famiglia. Perché l'eroe imparò prima a capire il linguaggio dei cani, poi quello degli uccelli e alla fine quello delle rane. Qui ci troviamo di fronte a un altro aspetto dell'importanza del numero 3. Acqua, terra e aria sono i tre elementi su cui si basa la nostra vita. L'uomo è un animale terragnolo, come lo è il cane. Il cane è l'animale che vive più a contatto con l'uomo. È l'animale che al bambino appare più simile all'uomo, ma anche che rappresenta la libertà istintuale, libertà di mordere, di evacuare in modo incontrollato e di indulgere senza ritegno agli stimoli sessuali. E nello stesso tempo rappresenta valori superiori, come la lealtà e l'amicizia. I cani possono essere addestrati a controllare la loro tendenza aggressiva e a mordere le loro escrezioni. Appare quindi naturale che l'apprendimento del linguaggio dei cani venga per primo e sia il più facile. Si dovrebbe dedurre che i cani rappresentano l'io dell'uomo, quell'aspetto della sua personalità più prossimo alla superficie della mente, poiché ha come sua funzione la regolazione del rapporto fra l'uomo e gli altri e il mondo che lo circonda. Fin dalla preistoria i cani hanno svolto in un certo modo questa funzione, aiutando l'uomo a difendersi dai nemici, nonché mostrandogli modi nuovi di porsi in rapporto con gli animali selvatici e non. Gli uccelli, che possono volare in alto nel cielo, simboleggiano una libertà di natura assai diversa, quella dell'anima di elevarsi, di ascendere, apparentemente libera da quanto ci lega alla nostra esistenza terrena, così appropriatamente rappresentata dai cani e dalle rane. In questa storia gli uccelli rappresentano il superio, col suo impegno verso obiettivi e ideali elevati, e i suoi esaltanti voli di fantasia e immaginarie perfezioni. Se gli uccelli simboleggiano il superio e i cani l'io, le rane simboleggiano la parte più antica della personalità dell'uomo. L'es potrebbe sembrare una remota connessione e la congettura che le rane rappresentino il processo evolutivo attraverso il quale gli animali terrestri, compreso l'uomo, in ere passate lasciarono l'elemento liquido per la terra emersa. Ma anche oggi tutti noi cominciamo la nostra vita circondati da un elemento liquido che abbandoniamo soltanto alla nascita. Le rane vivono prima nell'acqua sotto forma di girini, forma che poi perdono trasformandosi e passando a vivere in entrambi gli elementi. Le rane sono una forma di vita sviluppatasi prima nell'evoluzione della vita animale, tanto dei cani quanto degli uccelli, mentre l'es è quella parte della nostra personalità che esiste prima dell'io e del superio. Così, mentre ai livelli più profondi le rane possono simboleggiare il primissimo periodo della nostra esistenza, a un livello più accessibile rappresentano la nostra capacità di passare da una stadio inferiore a uno superiore di vita. Portando avanti la metafora potremmo dire che l'apprendimento della lingua dei cani e degli uccelli è il presupposto necessario per il conseguimento della capacità più importante, quella di svilupparsi da uno stadio d'esistenza inferiore ad uno superiore. Le rane possono simboleggiare sia il più basso, primitivo ed antico stadio della nostra esistenza, sia lo sviluppo che ci eleva a un altro stadio. Ciò può essere visto come simile allo sviluppo degli impulsi arcaici, alla ricerca delle più elementari soddisfazioni, a un io maturo in grado di servirsi delle vaste risorse del nostro pianeta per le sue soddisfazioni. Questa storia lascia anche intendere che il limitarsi a comprendere tutti gli aspetti del mondo e della nostra esistenza in esso, terra, aria, acqua e della nostra vita interiore, essi io e superiore, ci ha di scarso giovamento. Noi possiamo approfittare di tale comprensione in modi significativi soltanto se l'applichiamo ai nostri rapporti col mondo. Conoscere il linguaggio dei cani non è sufficiente, noi dobbiamo anche essere in grado di entrare in rapporto con quanto i cani rappresentano. I cani feroci, il cui linguaggio l'eroe deve imparare prima che possa diventare possibile qualsiasi forma di umanità superiore, simboleggiano gli impulsi violenti, aggressivi e distruttivi dell'uomo. Se noi rimaniamo alienati da questi impulsi, essi possono distruggerci, così come i cani divorano certi uomini. I cani sono strettamente legati alla possessività anale, perché fanno la guardia a un grande tesoro, e che spiega la loro feroce. Una volta che queste violente passioni sono comprese, una volta che si è giunti ad avere dimestichezza con loro, come è simboleggiato dall'apprendimento del linguaggio dei cani, l'eroe può addomesticarle e questo apporta un beneficio immediato. Il tesoro che i cani custodivano con tanta feroce diventa accessibile. Se si stringe amicizia con l'inconscio e gli si dà quanto gli è dovuto, come l'eroe porta il cibo ai cani, allora quanto era così fiaramente tenuto nascosto, represso, diventa accessibile e mentre prima era nocivo si rende benefico. L'apprendimento del linguaggio degli uccelli consegue naturalmente all'avvenuto apprendimento di quello dei cani. Gli uccelli simboleggiano le aspirazioni superiori dell'io e l'ideale dell'io. Poi una volta che la ferocia dell'essere e la possessività dell'analità sono state superate e il superiore dell'eroe si è affermato, imperando il linguaggio degli uccelli, l'eroe è pronto ad entrare in rapporto con l'antico e primitivo anfibio. Questo è anche suggerito dal suo raggiungimento della padronanza del sesso, il che nel linguaggio della fiaba è simboleggiato dal suo apprendimento del linguaggio delle rane. È significativo anche che le rane, le quali nel corso del loro ciclo vitale passano da una forma inferiore a una superiore, predicano all'eroe la sua imminente trasformazione, il suo passaggio a un'esistenza superiore, la sua elezione a papa. Le colombe bianche, che nel simbolismo religioso rappresentano lo spirito santo, ispirano l'eroe e gli permettono di raggiungere la posizione di maggior prestigio sulla terra. Egli la conquista perché ha imparato ad ascoltare le colombe e ad obbedire i loro ordini. L'eroe è riuscito a conseguire l'integrazione della personalità, avendo imparato a comprendere e a dominare il proprio es, i cani feroci, a dare ascolto al suo superio, gli uccelli, senza essere completamente in suo potere, e inoltre a prestare attenzione alle preziose informazioni che le rane, il sesso, hanno da dargli. Non conosco nessun'altra fiaba, in cui il processo mediante il quale un adolescente raggiunge la più piena autorealizzazione col proprio intimo, e inoltre col mondo, si è descritto con tanta concisione. Raggiunta questa integrazione, l'eroe è la persona adeguata per il più alto ufficio a cui un uomo possa aspirare.